L'eccitazione è il sintomo d'amore, al quale non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso, non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso